Benvenuti e bentornati a tutti ragazzi e ragazze a tutte cose della Inter, io sono Davide Giovanni e oggi siamo qui, stavo per suicidarmi e il sole sta calando, il sole sta calando, porca puttana, porca madonna. Allora, oggi siamo qui per fare un po' di quelle cose che avrei detto che avrei fatto nel video precedente. Prima però voglio farvi vedere un luogo molto interessante, secondo me. Come vedete ho pulito un po' questa zona, tutto quanto, e ho trovato anche dei polli mentre che mettevo a posto questa zona. E come sapete io avrei intenzione, diciamo perlomeno all'inizio, di continuare a costruire su questo stesso livello, quindi continuando su questo livello del terreno. Ma come vedete questa zona si estende abbastanza per lungo, pensavo fosse più piccola, e arriva addirittura a questa zona che è molto 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 bella, con questa isoletta e questo fiume. Il fiume, non so ancora dove porta, però sarebbe molto interessante approfondire un po', diciamo, il fondo del letto di questo fiume, di questa ansa, e costruire una zona portuale proprio qui, utilizzando questa zona come se fosse un piccolo porto. Vedete che è chiuso in questa maniera da questa zona di terra? Ecco, secondo me sarebbe una cosa davvero molto molto figa, e che potremmo fare davvero, e sarebbe interessante. È un po' un peccato avere il cambio di colori, il cambio di bioma proprio qui, che ti cambia i colori, te li sbala tutti, ma non importa, ci sta lo stesso. E qui magari costruirci un bel faro, che ne pensate? Un'altra cosa che devo fare in futuro è delle stalle, sì, voglio decisamente rimuovere queste cose da qui, perché sono atroci e inguardabili. E piazzarci una bella piazza, ma farla bella grande, bella ampia, da poterci mettere anche una fontana qui contro coglioni, magari spostando pure quello. E terraformando sto pezzo qui che fa abbastanza caccare, che è abbastanza inutile pure. Un'altra cosa da fare è anche terraformare un pochino davanti, per dare più spazio alla parte anteriore della casa. Che altrimenti è la parte principale, l'ingresso, ma è chiuso, è stretto, è schiacciato contro la foresta. Non so bene come fare la stalla, ma è una cosa sicura. Sarà una stalla con i contromaroni, ma proprio ce l'avrà enormi, enormi. Perché è la stalla del nostro cavallino, che non so ancora come chiamarlo. Una delle cose che volevo fare per questa stalla era dargli uno sbocco sul fiume, perché così sarebbe stato un po' più bellino anche per il nostro cavallo. Sul rio, non chiamiamolo fiume, questo qua non è un fiume, è tutto tranne che un fiume, è un piccolo fiume, è un fiumiciatto. Un Gesù Cristo che scende con l'acqua, ecco cos'è. Però purtroppo, come vedete, il fiume gira, fa NOPE! E se ne va da un'altra parte, quindi mi sa che questa parte del progetto dovrò lasciarla. Inizialmente questa struttura sarebbe dovuta sporgere verso il resto del mondo e avere un tetto simile a quello del pozzo che veniva girato in questa maniera qui, trasversale. Il punto è che se faccio quella cosa lì, c'è il rischio che venga come sta cacata qui, che sicuramente rifarò da capo perché è proprio brutto. E quindi per evitare questa cosa lo girerò di 90 gradi e lo farò un po' più piccolo la parte che sporge fuori dalla collina, in modo che il tetto sarà bello simile a quello lì, slanciato alto e lungo il giusto. E contemporaneamente avrò tutto lo spazio che voglio. Un'entrata del genere è quello che mi piacerebbe, quindi poi qua i vari cancelletti e poi qua si arriva a questa zona qua coperta con una piccola tana ulteriore all'interno della collina. Sì, 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 sì. Mi piace, mi piace davvero un mucchio, a differenza di te che mi fai schifo al cazzo. Sto provando a mettere le fence di color... Ah, è vero che non si attacca, porca puttana. Sì, però ridammelo anche, eh. Sto provando ad alternare le fence in questa maniera, non lo so se mi soddisfa. Certo che te appiazzavi i blocchi, ma Davide, se proprio... Eh? Non lo so se mi soddisfa oppure no, non riesco a capire se mi piace o no. Devo vedere, magari è struttura finita, poi riprendiamo sto dettaglio e vediamo com'è. Per quanto riguarda invece il tetto, e cioè i coglioni girati, perché ho scoperto che il video che doveva uscire il 21 non uscirà, perché i caricamenti non sono andati a buon fine. Grandioso. Comunque il tetto ho intenzione di farlo partire molto in basso, perché come vedete è molto alto, e quindi più in basso lo facciamo e più l'arco che vogliamo mettergli spezzerà maggiormente la forma. Sì, qui c'è una grotta, però non so cosa farci, non so se chiuderlo o no. Quindi devo farlo partire da molto in basso in modo che non sia un problema. Mentre invece qui pensavo addirittura di metterci gli scalini di giungla. Se ce li avessi, darmi gli scalini di giungla, grazie, in questa maniera qui, così. Questo perché? Perché fondamentalmente non lo so, mi ispirava. Magari chiudendo così mi dovrebbe rendere più facile poi anche la creazione dell'arco. Tanto è un pezzo che sono proprio piccoli questi pezzi, si vedranno poco, e i mattoni di pietra servono a fare l'angolo che altrimenti sarebbe venuto che non mi piaceva, e quindi l'ho fatto così. Adesso, però non so bene come farlo da questa parte, perché a me piacerebbe fare che fa così l'angolo. No. Vabbè sì, anche una finestrella qua, tanto questo poi sale e poi viene alto, quindi qui si potrebbe fare anche una finestrella, sì. Una buona idea, anche da questa parte, è speculare. Ma vai che è una figata. Ma vai che è una figata! È una figata! Il tetto, al tetto, gli aggiungo anche il gradino in questa maniera, così. Noi possiamo fare la finestra anche da questa parte completa. Lui nella sua forma sarà un po' più completo, un po' più fatto meglio, e qui ci metteremo delle trapdoor di abete, quindi comunque sarà un po' più tridimensionale. E qui possiamo mettere comunque le finestre, che verranno un po' tagliate da sto pezzo qua del tetto, ma dai, ci sta comunque. Come vedete, sto mettendo scala, blocco, scala. E ai lati, diciamo, agli estremi, per rendere tutto quanto un po' più gradevole alla vista, e dare un po' più di tridimensionalità, ho deciso di utilizzare un gradino girato in questa maniera. Questo è il tetto. Come dite, manca qualcosa, tipo l'arco, se adesso lo faccio, non rompete il cazzo. Come vedete è venuto molto ampio, quindi anche l'arco che ci sarà all'interno sarà ben più di un semplice arco. Sarà un arco bello. Ho iniziato a dare una forma all'arco. Come vedete sto usando anche delle botole, anche in questi punti, lo usate anche qui, in modo che laddove non c'è contatto tra i blocchi, possa mettere delle botole per farli incontrare, per dare uno spessore maggiore in certi punti, che dov'è altrimenti non ci serve proprio spessore. Come vedete, anche aggiungendola pure in basso, risulta tutto quanto di gran lunga migliore, e anche più armonioso, e soprattutto solido. Ho costruito anche il tetto dall'altra parte. Come vedete qui l'ingresso è estremamente ampio e alto, quindi il cavallo ci passerà senza alcun problema. Qui ci sono le finestrelle, e pensavo quasi di creare lo stesso arco anche da questa parte, ma non per fare l'ingresso appunto nella montagna della collina. Questa è una collina, che montagna. Perché tanto è molto piccola e sarebbe molto più alto, ma più che altro per fare una piccola entrata, perché vedete che lì in cima c'è giù uno spazio di due blocchi, che secondo me c'è anche dall'altra parte. Ecco, qui ci metteremo dei blocchi per addolcire un po' questa curva, ma dall'altra parte potremmo benissimo metterci una piccola, tra virgolette, porta di servizio. Ho creato quindi questa apertura anche da questa parte, lì potrà essere una simpatica entrata secondaria, mentre qui invece abbiamo questa più grande, a cui ho aggiunto anche i gradini, come ho fatto dall'altra parte, mettendo anche le botole, lasciando però le botole, il fatto che metterai entrambi. Sto scaricchiando senza aprire questa parte qui. Lì ci sarà l'entrata, questa invece sarà la parte sotterranea, possiamo dire così, dove potrà risiedere il nostro amato e stimato animale a quattro zampe, il nostro compagno di future mille avventure. Allora, devo decidere cosa fare però con queste, che probabilmente adesso vedendo così dire di mettere, se le voglio mettere le metto solo qui dietro in fondo, perché altrimenti non posso metterle su tutto il lato, perché arrivato qui dovrei metterle tipo all'interno del blocco, ma non mi fa impazzire come idea. Mentre invece se usate così possono essere utilizzate, ne ho persa una, l'ho ritrovata, come fonte di luce, perché qui dietro si possono nascondere molto agevolmente delle torce, che altrimenti non saprei dove mettere. Un'altra cosa che potrei fare qui è magari mettere al posto di questa, una specie di trave che tenga su tutto, ci può stare, non so perché ho tolto il blocco, l'ho tolto? Sì, l'ho tolto, perché? Non lo so, perché adesso qui c'è solo questo, però, boh, devo vedere, magari qualcosa che tenga su sta zona qui, dove mettere il mangime e l'acqua, sì, potrebbe starci. Ovviamente ho registrato l'ultima parte del video, microfono spento. Allora, volevo dirvi che il nome del nostro cavallo sarà XXX, Furia del West XXX. Purtroppo la scena originale era molto più figa, ma non ha l'audio. Detto questo, vi ricordo che abbiamo costruito questo posto qui oggi, che peraltro ho anche visto di notte, è ben illuminato, quindi ne sono felice. Vi ricordo di lasciare like e commentare, e condividere il video, di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. E in ultimo pregate anche alla betulla, porca la puttana, e se siete interessati a una collaborazione, sottotrovate in descrizione tutti i dati che vi possono interessare. Ci si vede, pregate alla betulla, puttana.